La Costituzione è la casa di tutti noi italiani. Ma come tutte le case, dopo 70 anni, anche la nostra ha bisogno di qualche lavoro di manutenzione e riparazione. Per 30 anni le riunioni condominali sono andate in fumo, ma finalmente, oggi, i lavori possono cominciare. Negli anni la nostra casa Costituzione è diventata un caos di antenne televisive, parabole satellitari e cavi tirati ovunque, sui balconi, sulla facciata, sul tetto. Ogni inquilino finora ha potuto fare come gli pareva. Le antenne, infatti, sono le leggi che ogni regione ha emanato in piena autonomia su materie come il turismo, i trasporti, l'ambiente, l'energia. Ma queste sono materie che interessano tutta l'Italia e non solo le singole regioni. Se vince il sì, ciascun condomino, cioè ciascuna regione, rimane padrone a casa sua, ma d'ora in poi, per le decisioni che riguardano l'intero condominio, dovrà rispettare regole e direttive valide per tutti. Niente più caos antenne, ma una parabola centralizzata, cioè lo Stato, a cui tutti possono attaccarsi. Basta un sì. Basta un sì.